Pensare ai giovani, contrastare secolarismo e relativismo, rendere sempre più forte la testimonianza personale di fede, è il compito indicato dal Papa ai Vescovi della Repubblica Ceca al termine della loro visita ad Limina. Le comunità cristiane, ha detto il Papa, siano luoghi di accoglienza, di confronto aperto e pacato, siano di stimolo per l'intera società nel perseguimento del bene comune e nell'attenzione verso i più bisognosi e si adoperino per una cultura dell'incontro. La vostra attenzione si è rivolta anche alla pastorale familiare, la famiglia è l'elemento portante della vita sociale e solo lavorando in favore delle famiglie si può rinnovare il tessuto della comunità ecclesiale, la stessa società civile. Occorre vigilare, ha notato infine il Papa, affinché i beni ecclesiastici siano amministrati con oculatezza e trasparenza.